buonanotte buongiorno cari amiche cari amici sono quasi le due le due di notte io sto terminando un crochet no è termino il corpo di un giacchino per bambina per bebè ancora bebè vero no no bambina va bene piccola bambina bambinetta fantolin fantin nini tusetta una tusetta e mi toccano le maniche domani ho da fare le maniche da lavare e asciugare attaccare bottoni santo cielo sono indietro allora allora abbiamo parlato molto di lino adesso arriva aspettiamo la primavera una fibra che per me è proprio fa primavera è il moer fa tutto addolcisce attenua mette l'accento rende gangiante lo possiamo abbinare a tantissimi filati quando è bello abbiamo sgamato del finto lino sgameremo del finto moer oppure sì perché non tutto ciò che è peloso che viene chiamato moer lo è magari non lo è nelle percentuali che ci vengono dette vengono scritte sulle etichette come lo riconosciamo è la famosa prova del fuoco ma lo compariamo abbiamo la possibilità di compararlo con altro soprattutto quando le percentuali sono molto alte non possono essere molto differenti questi filati e quindi preparatevi preparatevi ingrandiremo immagini che troviamo in rete analizzeremo un po di qualità che mi girano per casa quello che state guardando è quello che state guardando è un gomitolo di kid silk tinto col caffè è un prodotto che acquistai anni fa all'euma e ne ho presi tante matasse ne abbiamo macinate mai tanto perché io amo è una fibra di che amo veramente molto il moer tanto quanto le lane di pecora quelle che profumano di campagna di pascolo di miele di fieno di sole ecco il kid moer quello bello quello quello proprio vero anche se è sostenuto da nylon un conto a essere sostenuti da nylon e un conto avere una mischia di fibre acriliche le fibre acriliche possono manifestarsi in tanti modi possono essere lucide possono essere opache possono essere croccanti possono essere le floscette e possono simulare l'aspetto di un moer possono essere mescolate anche a del moer di bassa qualità imitandolo diciamo a volte vediamo che piccole percentuali di moer infilate altamente acrilici ci sono filati che dichiarano di essere quello che sono e li possiamo apprezzare oppure no il moer viene aggiunto in tante bellissime mische non so se avete mai utilizzato filati noro la seta il moer lana seta il moer il noro produce filati di un certo carattere particolari e qualcosa in casa ho lavorato ecco mi è passato sotto al naso un po di noro qualcosa ho qualcosa non ho più ho utilizzato muerta una vita no ma forse è la fibra che ho utilizzato di più in purezza e anche utilizzando varie tecniche l'ho tessuto perché l'ho usato in trama quindi l'ho proprio tessuto meravigliosamente con gioia l'ho abbinato a tanti materiali l'ho tessuto l'ho tricottato l'oncinettato l'ho ricamato e si l'ho usato anche proprio come filo da ricamo dove non ve lo dico ma come lo ricordo più guardate tanti scialli su berettini è una fibra nobile è una fibra meravigliosa e quante qualità quante fogge può essere ciuffoso tanto può essere poco peloso molto ritorto poco ritorto abbinato a lana a seta a lino a cottone a viscosa non mi viene in mente altro in purezza è difficile il mohair al 100% veramente difficile da trovare lo possiamo trovare bouclé la bouclé di mohair vi farò rivedere quella bellissima bouclé creata in italia per la maison chanel parleremo di filati artigianali parleremo di filati conosciuti qua vedete le fibre nobili di cervinia compareremo filati che si presentano con un 80% di questa meravigliosa fibra con altri e vedremo come sono uguali somigliano sono molto differenti come possono essere molto differenti se le percentuali sono così alte sono dichiarate le percentuali dichiarate ecco dobbiamo svegliarci eh qui non dobbiamo eh ma se lo dicono ma sono così carini no svegliatevi e svegliamoci e corriamo ai ripari parleremo di buoni fornitori chi sono i buoni fornitori? eh vabbè Lorenzo ma certo i buoni fornitori sono quelli che ti vendono i filati molto costosi no i buoni fornitori sono i fornitori sinceri quelli che ci offrono un buon servizio che ci danno un'ottima assistenza e che non ci camuffano le indicazioni sulle etichette ecco fatto quali sono i buoni fornitori? i buoni fornitori commerciano e producono filati lussuosi i buoni fornitori producono filati modesti ma ben esposti ben presentati ben dichiarati che non ci creano problemi ecco ecco fatto per essere un buon fornitore bisogna per forza utilizzare fiebre nobili? certo che no essere un buon fornitore vuol dire essere una persona seria capace preparata non ci si improvvisa venditori di filati non ci si improvvisa commercianti non ci si improvvisa produttori o rimaneggioni diciamo ecco non è così ecco non funziona non funziona e poi i nodi arrivano al pettine da tessitrice lo ricordo quindi questi saranno gli argomenti l'argomentone sarà il mohair il mohair buono il mohair mediocre il mohair artigianale il mohair tinto botanicamente il mohair abbinato abbinato ad altri filati il la fibra di mohair mescolata ad altre fibre va piace l'argomento bene preparatevi sono felice qualcuno un po meno ma bisogna aprire gli occhietti e quindi guardare osservare e voltare le spalle a chi ci tradisce e beh eh sì va bene poi fate i vostri eh alla fine se vi piace farli prendere in giro a me no manca un po soprattutto se mi sento usata beh ok andiamo avanti il mohair è una delle fibre che amo di più l'ho detto lo ridico il mohair dal mohair dal kid dal super kid al mohair adulto al mohair anni 80 al mohair anni 60 quello che pungeva davvero e come cercherò di spiegarvelo nel miglior modo possibile cercherò di coinvolgere io non sopporto i fili pelosi i filati pelosi va bene e ok hai anche ragione se non ti piace non ti piace ma spero di farvelo amare sempre di più quello buono quello bello ma costa tanto costa giusto costa il suo accogliamo questa è la stagione buona scegliete i colori per la stagione buona avete un filato un po così che volete usare vestitelo di mohair ecco combinate bene i colori create delle belle texture arriverà la primavera iniziamo a lavorare adesso i capi che poi metteremo tra poco che farà ancora freddo e non avremmo voglia di mettere di indossare colori invernali e autunnali vestiamoci di colori che ci donino che ci rendano felici che magari assomigliano un po' di più ai fiorellini ai cieli belli ai mari buoni va bene preparatevi io sono carica nonostante l'ora un freddo becco non vedo ora di finire sta cosa voglio andare a letto domani ricominciamo domani ho da lavorare tanto 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 e tornerò al sole le previsioni dico meno male perché stansera io contavo di lavarmi un golf e una maglietta di cash mi lavo domani mattina presto di rullo consumerò un po' di asciugamani rullo 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 metto al sole a rovescio e quindi dovranno essere pronti per domani sera anche queste cosine che sto preparando devo attaccare dei bottoni dovranno essere lavate e asciugate per la sera domani sera dovrò preparare delle confezioni in regalo e consegnarle poi continueremo fatta questa cosa questa serie di cosine per beve come ricominciamo? ma eh c'è un tutorial che vi ho proposto che vi ho promesso e quindi lo faremo va bene perché mi piace un sacco quel punto quel mio berrettone sta piacendo un sacco io più lo guardo più lo amo il mio berrettone dove nel bordo ho utilizzato l'ulisse di domani ve lo dico the rerum natura è arrivata il mio angelo custone mi ha dato un la meno male adesso mi da anche il sol oh che sonno ho sonno ho sonno voglio andare a letto ma voglio finire questo compitino allora buongiorno ciao maria vittoria poi ti interrogo eh poi vi interrogo no voglio aiutarvi aiutiamoci aiutiamoci il senso dei social scusatemi è mica farsi del male farsi del bene aiutiamoci con le informazioni con i consigli con le esperienze partecipate e se sgamiamo quello che non va bene eh dobbiamo dirlo mica possiamo dire vabbè allora lo so e si e gli altri che ancora non lo sanno che vanno a dare i propri soldini a dei commercianti privi di scrupolo privi di coscienza allora a loro ci penserà il signore nostro ma il portafoglio attualmente dobbiamo pensarci noi allora sono momenti buoni per andare a pescare le occasioni in giro apriamo gli occhietti facciamo scorta di cose buone adesso troveremo dei filati scontati in lana ricordo che la primavera non arriva a quei 40 gradi all'improvviso possiamo stare a lungo con delle temperature insomma freschettine e noi ci facciamo le cosine colorate bene con i filati giusti la qualità bella risparmiando dei soldini possiamo accumulare altri filati per la stagione invernale che arriverà speriamo se non faccio par qualcosa in testa ma ecco gli scampoli se lavoriamo un lo ricordo lo dico spesso ma magari poi ce lo dimentichiamo se contiamo di creare un golfino confezionare un golfino utilizzando queste belle tecniche queste belle tradizioni ferase il color war acquistiamo anche degli scampoli e gestiamoli bene anche dello stesso colore bagni diversi ma se questi bagni sono intervallati interrotti da cornici di altro colore stabiliamo un gradiente di questi bagni ed ecco che accentuiamo delle belle diciamo dei bei ensemble di colore creiamo delle sfumature ecco quello che crea una serie di bagni diversi è proprio una sfumatura del medesimo colore del medesimo filato quindi perché aver paura degli scampoli se non ci capitano per caso è tra le mani che poi non li sappiamo utilizzare dobbiamo sapere che sono degli scampoli osserviamo bene le differenze e possiamo in questo caso trattare un po coi nostri fornitori se sono merciai no se magari andiamo al negozio abbiamo la persona davanti certa distanza è un po difficile però andiamo a caccia di scampoli e stimolano la nostra creatività facciamo cose per bambini a volte bastano poche pochi pochi eti pochi grammi di di filato e noi togliamo delle rogne anche ai negozianti che magari si trovano a volte ad avere tanto spazio occupato da piccole quantità di bagni differenti ecco chiediamoli direttamente diciamo però mi viene con un sorriso con un fare gentile che non sembra un ricatto che non deve essere un ricatto se io le porto via un po di scampoli mi viene un po incontro ecco magari non c'è la previsione un saldo e ce lo creiamo un saldo cerchiamo di ringraziare anche queste opportunità diciamo questi fornitori insomma fidelizziamoci un pochetto no quando si può va bene i saldi i saldi li possiamo creare noi durante tutto l'anno cerchiamo gli scampoli ci dà un po di scampoli magari sono tante qualità diverse ma con un po di creatività possiamo anche lavorarle insieme senza creare pacciughi o poi lo faremo un capo composto da tanti filati diversi mia madre è proprio una specialista ma non solo lei in famiglia si diverte ancora di più quando può mescolare di tutto e di più vi auguro un buon risveglio buonanotte buona domenica buona settimana buon marzo 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 domani marzo anche presto perché c'ho da fare e marzo tanti compleanni i miei fratelli gemelli compieranno 50 anni la iaia e lele io me li ricordo piccolini bello mio fratello con gli occhiali con i capelli sempre spetenà con fuori a pieno di ritrosi mio fratello adesso ce l'ha sempre corte e la iaia la iaia e lele compieranno 50 anni marzo che altri famiglia poi mi dimentico tanti altri compleanni ma in famiglia ci sono solo loro di marzo spero credo sì poi chiedo a camilla poi arriva aprile la mia bambina compirà 35 anni poi arriva marzo maggio eri miei 60 ci arriveremo a maggio aprile incontro alla spezia e mi raccomando a presto presto il programma dove presso il laboratorio il nido tessile così conoscete un po' conoscerete me minu mia sorella la laura mia nipote chiara le gemelline mia sorella iaia e poi vi spedirò al forno di mia cognata laura cose buone buone a mangiare la messù a mangiare la pizza della pia a mangiare i pesciolini dai pescatori lungo la passeggiata morino quante cose buone poi se venite da sud vi dico dove andare se venite dal nord vi dico dove fermarvi oh sì 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 dai che sarà bello sarà bello facciamo modo che lo sia buona notte ah poi vi devo parlare del moer della valdivara ci sono delle belle opportunità vi parlerò di una persona vi parlerò di una realtà vi parlerò di una cosa bella e ce ne abbiamo speriamo di tempo a dio piacendo ciao a presto